12 in punto, domenica 3 aprile, buongiorno e ben ritrovati, il nostro focus TG, il nostro appuntamento di pranzo, anche la domenica naturalmente un'ora in compagnia, rigorosamente in diretta per fare un po' il punto della situazione, vedere quello che accade, quello che è successo nelle ultime ore a nord-est e per vedere un po' come sta andando la domenica, di certo la notizia di queste ore è anche quella di una primavera che fa fatica a ingranare, questo sicuramente, però dovrebbe durare un altro paio di giorni questa incertezza e poi ci dovremmo essere. Dal Covid vengono notizie abbastanza incoraggianti, nel senso che, lo vediamo insieme subito, il bollettino della regione, il bollettino di azienda zero che delle ultime 24 ore ci dà un riscontro che a quanto pare è positivo con 4881 nuovi casi ma che sono in calo ormai da circa 5 giorni e questa quindi potrebbe essere, speriamo, una notizia positiva. Abbiamo poco meno di mille casi a Padova e a Treviso ma anche a Vicenza e insomma casi invece più bassi, numero più basso a Venezia e molto più basso a Belluno e Rovigo. Attualmente ci sono 81.809 positivi in Veneto e questo è un dato che controlliamo sempre con attenzione, ingrandisco un po'. Per quanto riguarda gli ospedali, anche qui sembra che sia un po' più sgravata la situazione, meno otto ricoveri nei reparti ordinari, meno due ricoveri nelle terapie intensive, c'è però ancora un dato di sette persone che hanno perso la vita appunto a causa del Covid. Insomma c'è questo dato che pare sia in fase calante per quanto riguarda i nuovi positivi in Veneto, come dicevo, da circa 5 giorni, numeri più bassi. Per quanto riguarda invece la primavera, come dicevamo poco fa, insomma c'è ancora la neve quindi manca ancora un po' prima di poter dire di essere veramente nella nuova stagione. Allora andiamo a vedere un po' cosa è successo dalle parti dell'altopiano nell'ultime ore, proprio per quanto riguarda il tempo e le nevicate. La neve ha molti nomi sull'altopiano dei sette comuni e Mario Rigonisterna ricordava come l'ultima neve, quella primavera ormai iniziata, venisse chiamata dai cimbri Cucusnea, la neve del cuculo, che arriva quando l'araldo della bella stagione ha già iniziato a cantare. Ed eccola la neve di primavera che ha imbiancato i paesi e le contrade dell'altopiano con una spolverata a tempo abbondantemente scaduto. Da Roana a Gallio, da Asiago alle vette del comprensorio, una soffice coltrebianca ha trasformato il paesaggio in una cartolina da fiaba per un altro giorno, per qualche ora almeno. Poi tornerà la bella stagione che porterà temperature decisamente più alte e probabilmente qualche pioggia a partire da metà settimana. Ma nel frattempo tutti, altobianesi e turisti, possono godersi una vera cartolina ammantata di magia, sperando che nel prossimo inverno la neve arrivi presto e in misura tale da rispondere alle esigenze del comparto turistico. Per chiudere un po' il quadro, a Cortina neve fresca con 5 cm caduti nella notte, ma poca cosa di fronte ai 18 del Montepiana, che in zona misurina è comunque molto più alto rispetto ai circa 1300 metri di Cortina, Montepiana siamo a 2265. Oggi giornata nuvolosa, ma anche col sole, un po' di pioggia, un po' di neve, tutto ancora incerto per qualche giorno. La cronaca adesso, ci spostiamo nel veneziano perché a Caorle ci sono stati degli arresti shock da parte delle forze dell'ordine. È stata sgominata una baby gang, di mezzo c'erano droga e pedopornografia. Gestivano lo spaccio di droga sulla piazza di Caorle. Dopo un'indagine durata alcuni mesi, i carabinieri hanno arrestato quattro minorenni tra i 13 e i 17 anni. I quattro, provenienti da buona famiglia, sono stati collocati in una comunità a disposizione dei magistrati. L'operazione, eseguita nelle province di Venezia e Bolzano dopo l'indagine avviata a novembre, ha visto impegnati i militari di Portogruaro insieme ai colleghi di Bolzano, su richiesta della procura dei minori di Trieste. Sono state eseguite anche otto perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti minorenni. Un arresto e tre perquisizioni sono avvenuti a Bolzano, dove risiedevano con la famiglia, mentre gli altri tre in provincia di Venezia. I ragazzi si ritrovavano d'estate o nel periodo invernale, dove la famiglia possedeva la casa vacanze e avevano istituito una vera e propria associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, soprattutto marijuana e ashes. Ricevevano le ordinazioni tramite social e poi si accordavano per la vendita. In tre sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, il quarto solo di detenzione ai fini di spaccio. Ma non è tutto. Alcuni dovranno anche rispondere di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico trovato nei loro cellulari. Secondo i carabinieri però si tratterebbe di materiale non realizzato dai ragazzi, ma a larga diffusione nei social. E secondo un primo riscontro, non sinonimo di una devianza, ma piuttosto frutto di una gravissima leggerezza commessa senza rendersene conto. Sul caso è intervenuto anche il questore di Venezia. Quando non si guida una macchina per tanto tempo bisogna stare attenti che nella ripartenza non ci viene voglia di correre a 200 all'ora. Credo che anche su questo dobbiamo essere tutti allineati a essere solidali. Un altro problema di questi giorni è l'aumento di molti generi di consumo a partire da quelli di prima necessità. C'è un aumento anche a due cifre per pane, pasta e caffè, oltre al caro bollette che abbiamo già ben sperimentato anche sulle nostre tasche. E l'allarme che lancia la CGA, che è l'associazione di mestre che studia l'andamento del mercato, secondo la CGA il rischio è quello che con l'aumento di questi prodotti aumenta l'indebitamento delle famiglie e si può arrivare anche all'usura. Ecco quindi l'allarme che arriva da mestre, dalla CGA, quindi ovviamente da tenere tutto monitorato. Andiamo a Vicenza adesso perché si sono svolti i funerali di un biker e così sono arrivati a Orgiano da tutto il Veneto proprio attraverso il passaparola per questi funerali un po' particolari. Erano oltre il centinaio i motociclisti che hanno scortato la salma di Filippo Bracesco, il centauro 25enne che ha perso la vita assieme ad altre due persone nel drammatico incidente domenica mattina da Gugliaro. Una folla composta, commossa, accompagnato Filippo nel suo ultimo viaggio fino alla chiesa arcipertale di Santa Maria Assunta di Orgiano, ad accoglierlo sul sagrato i genitori Sabrina ed Enrico, il fratello Edoardo e la fidanzata Elisa. Nella chiesa stipata ai limiti del Covid il parroco Giovanni Imbonati ha ammonito i presenti ricordando la fragilità che ci accomuna nella nostra condizione umana. So che il mio redentore vivo più ultimo si ergerà sulla polvere, la polvere della strada, la polvere delle piste, la polvere del tempo, della storia, la polvere che vogliamo fuggire con le nostre velocità, ma anche la polvere che siamo noi. Nessuno di voi muore da solo, anche in un istante il Signore si chiama. Anche in un istante davanti a noi passano quelle istantanee della vita, quasi come quelle che troviamo fuori, in cui le leggiamo ogni momento, ogni istante. Ed ecco le le istantanee della vita che gli amici di Bratch hanno voluto dedicargli. C'è anche la sua amata moto che usava sulla pista di Albettone. Nessuno dei presenti ha voluto esternare al microfono i propri sentimenti, ma la commozione era palpabile. Come un ruggito di rabbia e dolore per la scomparsa di un giovane esuberante nel fiore dei suoi anni, l'ultimo saluto è stato lasciato al motore, nella sua ringhiosa lunghissima sgasata. Un ultimo saluto un po' particolare, senza dubbio, questo nel Vicentino, con il nostro servizio. Adesso andiamo a Padova e vi parliamo della sanità, perché c'è stato un incontro sulla sanità in Veneto, organizzato dal Partito Democratico. C'erano i vertici del partito, anche medici, esperti. Quello che emerge è che va potenziata senza dubbio la medicina territoriale e ha aumentato il personale sanitario in genere, utilizzando anche i fondi del PNRR. Perché no? Allora facciamo un po' il punto della situazione. I fondi del PNRR in Veneto per correggere gli errori nella sanità degli ultimi anni. Con l'occasione va riprogettato il sistema sociosanitario Veneto. Lo ha detto il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, al primo forum sulla sanità del Veneto organizzato dal PD regionale. Avendo maggiore attenzione al territorio, ai servizi che i cittadini possono avere più da vicino con una maggiore integrazione sociale, è il momento di valorizzare i medici di famiglia e di aumentare il numero di coloro che possono svolgere questa funzione. È il momento di fare in modo che molti medici del nostro sistema ospedaliero rimangano in Veneto e non vadano al privato. È ancora il momento di ridurre le liste d'attesa. In questi anni la sanità veneta ha tagliato i suoi rapporti col territorio pezzo a pezzo, è stato detto al forum. Il faro delle politiche sanitarie regionali sembra essere la riduzione della spesa e non la salute dei cittadini. Certo che le esigenze sono cambiate e anche i bisogni di salute, ma la garanzia dell'accesso è la premessa di tutto. Perciò il sistema pubblico va rinforzato. E soprattutto con la consapevolezza che le spese in sanità sono un investimento per i cittadini del Veneto e sono anche una questione di democrazia, perché liste d'attesa troppo lunghe o visite che devono essere pagate producono diseguaglianza e soprattutto producono un danno, soprattutto ai cittadini che possono di meno. 12 e 12 minuti, ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo fino alle 13 insieme per parlare di attualità e anche del futuro. 12 e 15 minuti, domenica 3 aprile, siamo insieme da mezzogiorno, rimarremo insieme fino alle 13, poi naturalmente continuate a rimanere con noi anche nel pomeriggio a tutti i nostri programmi, poi stasera i nostri notiziari a partire dalle 18.50 con TG Bassano, poi a seguire Vicenza, poi alle 21.15 circa il nostro solito appuntamento con il film, questa sera The Contract con Morgan Freeman, John Cusack e Jamie Anderson, già vi anticipo quindi cosa andrà in onda questa sera su Rete Veneta, abbiamo detto dei contagi che in parte stanno un po' calando, specialmente da 5 giorni a questa parte e quindi c'è un po' di ottimismo, abbiamo detto dell'aumento dei prezzi con alcuni prodotti come pane, pasta, caffè che sono aumentati, il record, il prezzo record del caffè espresso si raggiunge a Bolzano dove un caffè consumato al banco del bar può arrivare in media a 1,23 Euro, cioè 1,23 Euro e poi al secondo posto 1,20 Euro di media a Rovigo e Ravenna. Abbiamo detto del maltempo, però da domani dovrebbe migliorare ovunque, quindi questa è un po' la notizia, da domani dovrebbe partire veramente la primavera. Abbiamo parlato poco fa di Caorle con il servizio di Ilaria Marchiori, con gli arresti per droga tra i minorenni, sentiamo un po' le reazioni in questa località da parte dei residenti, insomma come è stata presa questa drammatica notizia? Per me è il troppo benessere delle famiglie, non vengono seguiti, poi d'estate qua abbiamo il problema che tutti sono impegnatissimi con il lavoro e di conseguenza i ragazzi purché non disturbino, non fanno fatica a dare i 20 Euro, 50 Euro e queste poi sono le conseguenze. I ragazzi al giorno d'oggi per valori, per libertà che i genitori secondo me lasciano un po' troppo non è semplice, poi d'estate qui c'è tanta gente, tantissima, intervenire credo comunque sia difficile, a prescindere in qualsiasi paese, quindi non colporezzerei neanche molto i carabinieri, che sia difficile questo senz'altro. Dipende sempre dai genitori, dopo dalle compagnie. Il sistema è così, c'era 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, sempre stato. L'arresto dei quattro minorenni per spaccio di stupefacenti a Caorle non sorprende troppo i residenti, tra chi responsabilizza le famiglie e chi la società, ma secondo qualcuno servono invece maggiori controlli, soprattutto nel periodo clou, quello estivo. Si vede, si cosa, si sente, si fa tutto e non so perché non sono intervenuti prima i carabinieri, hai capito il discorso? Vedi che è una forza minima di carabinieri, ma d'altronde d'estate ce n'è altra forza, che arrivano ancora di quelli nuovi, insomma, ecco. Tema caldo invece a Bassano, quindi cambiamo località, ci spostiamo di provincia, ci spostiamo di città e parliamo di Bassano, dove è molto caldo il tema della tassa di soggiorno, una vera e propria bagarre che non sembra proprio attenuarsi, interviene anche l'ex sindaco Poletto che dice è un pasticcio che lascerà segni profondi, sentiamo un po'. Raddoppia la tassa di soggiorno per le strutture ricettive bassanesi, ma gli albergatori non lo sanno, oppure qualcosa sanno ma non c'è nulla di scritto. E come è già accaduto nella comunicazione, o non comunicazione, da parte dell'amministrazione Pavan con la città, alla fine il pasticcio è dietro l'angolo. Quello che è accaduto per me è sorprendente, ho letto attentamente le dichiarazioni prima dell'assessore e poi le dichiarazioni del presidente degli albergatori e poi nuovamente le precisazioni dell'assessore e mi sono fatto l'idea che si è fatto un pasticcio, un pasticcio molto grosso. Una faccenda spinosa dalle ricadute potenzialmente enormi, come il raddoppio della tassa di soggiorno, non si gestisce a cuor leggero o con una telefonata, ricorda Poletto. Io credo che l'amministrazione si sia mossa molto male, dal punto di vista di metodo, normalmente in questi casi non si fa una telefonata, penso che sia vero che sia stata fatta, poi sui contenuti diranno le due protagoniste, ma non è una telefonata che regola un raddoppio di una tassa di soggiorno dopo due anni di Covid. Una questione traballante sia nel merito che nel metodo, che rischia di lasciare profonde ferite nel territorio. Non condivido per nulla nel metodo, sono preoccupato perché se questo è il modo di condurre i rapporti con le categorie economiche e anche con i comuni con termini, temo che poi ci sarà molto da ricostruire nei prossimi anni. C'è il rischio che questo raddoppio della tassa vada a penalizzare le strutture ricettive di Bassano che il settore turistico della città ne risenta. Ma questo lo hanno già detto gli albergatori, quindi io dico di sì perché trovo conferma in questo timore proprio dei protagonisti di questo settore, loro l'hanno detto, noi rischiamo che anche per due euro, perché poi ormai stiamo misurando euro per euro, questi due euro possano fare la differenza. Ecco allora un tema che sicuramente continuerà a far discutere a Bassano anche nelle prossime ore, avete sentito la questione della tassa di soggiorno. Noi cambiamo di nuovo provincia, anzi andiamo a Vicenza in realtà sempre, però in un'altra località della provincia di Vicenza, Monticello Conteotto, dove i carabinieri, qui insomma ci spostiamo nell'ambito della cronaca, hanno identificato una gang che avrebbe organizzato una spedizione punitiva e nei guai sono finiti 12 ragazzi che hanno poco più di 20 anni. Gang violenta, i carabinieri della tenenza di Dueville identificano 12 giovani poco più che 20 anni, indagati in concorso per rapina a mano armata, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato di proprietà privata. Episodi gravi che risalgono all'estate del 2020 quando un gruppo composto da una quindicina di ragazzi provenienti da diverse zone del Vicentino a bordo di tre automobili sarebbero piombati nella frazione di Cavazzale a Monticello Conteotto per compiere quella che gli investigatori definiscono una vera e propria spedizione punitiva, maturata in seguito a una partita di droga non pagata e per uno sgarro da vendicare in quanto il fratello del capo banda era stato malmenato qualche giorno prima. Le indagini appurano che la banda era alla ricerca di due pregiudicati ma non sapeva quali fossero le loro abitazioni per questo i membri della gang avrebbero iniziato ad aggredire, picchiare e rapinare indistintamente chiunque si trovasse sulla loro strada per farsi dare l'indirizzo. Le vittime sono quattro giovani di cui tre minorenni totalmente stranei ai fatti e colpevoli solo di essersi trovati a chiacchierare su una panchina nel centro di Monticello Conteotto. Per questo sono stati picchiati selvaggiamente e rapinati con un manganello estraibile e con alcune bottiglie di vetro. Terrorizzate quella sera le giovani vittime hanno provato a suonare all'impazzata i campanelli delle case dei dintorni per cercare riparo. Da quel che risulta alcuni membri della banda non contenti si sarebbero ripresentati anche il giorno successivo probabilmente portando con loro anche una pistola scacciacani. Trovata l'abitazione di uno di quelli contro cui volevano vendicarsi avrebbero anche tentato di abbattere il cancello per poi fuggire all'arrivo dei carabinieri chiamati dai residenti della zona. Dei 12 giovani individuati dagli investigatori tre sono nati in Romania, uno in Marocco, uno in Senegal e cinque in Italia. Uno è al momento irreperibile e non si esclude che possa trovarsi all'estero. Un altro è deceduto alcuni mesi fa in un incidente stradale. Gli inquirenti non escludono che la gang possa essere stata protagonista di altri episodi criminosi non ancora denunciati. I componenti della banda risultano tutti indiziati di altri gravi reati commessi nello stesso periodo in tutta la provincia di Vicenza per fatti non connessi tra cui anche i gravi episodi avvenuti nella notte di Capodanno del 2021 sull'Altopiano. Nell'occasione due fratelli considerati leader del gruppo sono indiziati insieme ad altri indagati di aver messo a soccuadro un hotel di Roana, di aver picchiato anche alcuni clienti e persino aggredito i carabinieri intervenuti. Ecco dicevamo del Covid con una fase di discesa dei contagi. Nelle ultime 24 ore lo vediamo dal bollettino di Azienda Zero che è arrivato e che fotografa la situazione alle 8 di questa mattina e che riporta i dati delle ultime 24 ore. Ci sono stati 4.881 nuovi casi ma sono 2.300 circa in meno rispetto a ieri, cioè alle 24 ore precedenti e sono numeri in calo da 5 giorni. Numeri leggermente in calo, vado più giù anche per quanto riguarda i ricoveri, con 8 ricoveri in meno sul fronte dei reparti ordinari e 6 ricoveri in meno nei reparti ordinari, 2 ricoveri in meno nelle terapie intensive e ancora 7 decessi. Questa è un po' la situazione che a quanto pare sta leggermente e ulteriormente migliorando. Intanto è stata fissata la data per le elezioni amministrative, per i nuovi sindaci. Anche a Padova si sceglierà il nuovo sindaco, quindi una città grande del Veneto che andrà alle urne. Abbiamo chiesto ai padovani cosa chiedono ai candidati. Il 12 giugno si terranno le elezioni, si deciderà chi siederà a Palazzo Moroni. Abbiamo chiesto ai padovani quali sono le loro necessità e le loro richieste al futuro sindaco. Al futuro sindaco di Padova si deve chiedere parcheggi, tanti parcheggi, perché la gente non arriva in piazza, non arriva a Padova se non ci sono parcheggi. Per cui caro mio sindaco futuro, parcheggi, i negozi muoiono senza la gente. Direi di avere un'attenzione proprio visiva della città, osservare il problema dove esiste e comunque non cercare di risolvere assolutamente personalmente il problema, ma delegare a chi è preposto, a chi sa fare, l'assessorato, chi... Un po' di mezzi in più e parcheggi. Parcheggi verso il centro e altro, niente, ordine, ordine, ordine. Questo più pulizia, perché nelle zone delle università, eccetera, è un disastro, eccetera, e lì bisognerebbe fare pulizia proprio. Probabilmente è una città un po' più pulita, quindi insomma, frequentata un po' meglio. Meno droga, penso, credo. Un po' di sicurezza in più, probabilmente, ma senza esagerare. E un po' di pulizia in più per le strade, perché credo che Padova meriti un occhio di riguardo. Probabilmente è un po' più di sicurezza in alcuni quartieri, in realtà, perché dopo in altre parti il sindaco ha fatto un buon lavoro. E per quanto riguarda i commercianti, che magari è un po' quello che mi riguarda di più, un aiuto da parte del sindaco o di tutti quanti i suoi collaboratori, perché stiamo passando un momento abbastanza di difficoltà. Miglioramento, per esempio, dei parchi per i bambini, che stanno lavorando, si vede che c'è qualche miglioramento, però occorrerebbe forse fare di più, fare un po' più verde, più spazio. Questo mi sembra una prima necessità. Tante opinioni a confronto, tante idee, magari tanti spunti per i candidati sindaco che a Padova si confronteranno a giugno. Fa sempre bene sentire le voci e le idee dei cittadini, perché è da lì che si deve partire, specialmente per un sindaco che è l'organo dello Stato che ha più diretto contatto con i suoi cittadini. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo ancora fino alle 13 insieme. 12.30, ancora insieme fino alle 13 e poi anche nel pomeriggio i nostri programmi, i nostri notiziari, il nostro film di questa sera alle 21.15, The Contract con Morgan Freeman. abbiamo sempre film di grande qualità qui su Rete Veneta la sera e i temi un po' del giorno sono sicuramente un certo calo costante da 5 giorni del numero di positivi ai tamponi per quanto riguarda il Covid, una primavera che magari tarda un po' ad arrivare, tutto sommato, quindi qualcosa di legato anche al tempo e purtroppo gli aumenti di bollette ma anche prodotti come pasta, pane, caffè, in parte certamente può essere anche legato tutto questo alla guerra in Ucraina. A proposito di Covid andiamo a Treviso, meglio andiamo a Shanghai perché vi raccontiamo, ce lo raccontano dalla nostra redazione di Treviso, la vicenda di un imprenditore veneto che vive la lavora da anni a Shanghai perché mentre qui si allentano le restrizioni in Italia, a Shanghai in Cina è lockdown vero e proprio perché i casi sono tornati a salire di parecchio. Hanno addivito dei container e tutti i sintomatici senza gravi condizioni rimangono dentro fin tanto che un test sia negativo, dopodiché stanno altri 14 giorni all'interno di quel container e poi possono uscire, può passare anche un mese all'interno di un container. Ci sono situazioni che in Italia sarebbero insostenibili, imbarazzanti, non sarebbe umanamente possibile, dico umanamente ma qui umanamente funziona così. I sintomatici non gravi in container, una fessura per il cibo, gli asintomatici raccolti nei poli fieristici in attesa di negativizzarsi, gli altri tutti in casa nel più grande lockdown che la città ricordi. Cronache dalla Shanghai deserta. Fino a dicembre la situazione era di totale tranquillità, poi è arrivata la variante Omicron. E allora, se in Occidente la scelta è quella della convivenza con il virus, in Cina il percorso è quello del Covid-0, annullare il contagio, anche a fronte di cifre che qui sarebbero impensabili. Oggi a Shanghai ci sono 38.000 asintomatici e 1.500 in una città da 25 milioni di abitanti. Quindi sembrano per voi numeri irrisori, qui è una tragedia. Lo sa bene Riccardo Parisi, imprenditore bassanese che da più di 10 anni vive e lavora a Shanghai e che prima del grande lockdown ha cercato una via di uscita per quanto possibile. Il 29 ho deciso di scappare da Shanghai perché ci sarebbe stato il grande lockdown, ben pensando di andarmene. Sono in un'isola a sud della Cina, ho dovuto fare diversi tamponi per potermi muovere. Quando sono arrivato mi ho fatto un'altra in aeroporto perché era obbligatorio e a quel momento hanno scoperto che nei giorni precedenti c'era un caso, un caso, e ci hanno portato in un Covid hotel. Noi siamo chiusi in un Covid hotel dal 29 scorso. Qui la regola è che ognuno è in una stanza, volevano separarmi da mia moglie che è incinta, al che ho dovuto litigare per convincerli a tenerci assieme. C'è un'altra famiglia di italiani, papà, mamma e bambino di 12 anni e volevano mettere il bambino di 12 anni in stanza da solo. Mentalità occidentale in un paese orientale ci vuole molta flessibilità, racconta Parisi che spiega anche il perché della decisione drastica dettata anche dall'alta densità della città. A pesare inoltre il grande spavento di quanto è avvenuto a Hong Kong a gennaio, 150.000 contagi e 200 morti al giorno. Ma lo stesso Parise, pur giudicando indecenti certe situazioni sotto gli occhi di tutti, sa anche che questo sistema ha consentito al paese di riaprire in passato prima di tutti. La filosofia è chiudere ora per poco per non bloccare tutto poi. Se loro ci riusciranno ad aprile, secondo me avranno vinto perché comunque sarà stato un problema di febbraio, marzo, aprile. Ma perché sta accadendo tutto questo in Cina? La risposta è lampante, sta nella politica vaccinale. C'è il 75% di popolazione vaccinata, ma il problema è che i vaccini cinesi, fatemelo dire, fanno schifo, non funzionano. Il 20-25% della popolazione vaccinata è anziana perché per etaggio culturale non hanno voluto vaccinarsi e ovviamente per i numeri risori che in questi due anni si sono verificati in Cina non c'è immunità di greggie. Ora Parisi attende di poter tornare alla vita di tutti i giorni e al lavoro e se gli si chiede quale sistema sia migliore tra Occidente e Oriente risponde così. Probabilmente il buono di entrambe le parti fanno l'optimum, però devo dire che da fuori mi sembra che gli italiani e i veneti in questi due anni siano stati molto bravi e diligenti e abbiano portato davvero un sacco di pazienza e finalmente secondo me si meritano un po' di libertà. 12.35 minuti, ancora il nostro Focus TG fino alle 13 in compagnia, c'è stata un po' di neve 5 cm a Cortina, di più nella zona di Misurina ma che è anche molto più alta e quindi insomma ancora qualche ora prima dell'arrivo della primavera. Intanto a Cittadella è sbarcata la manifestazione Formaggio in Villa. Quattro giorni per parlare di turismo, per parlare di eccellenze, per parlare del Veneto, per parlare dell'Italia e del suo territorio. Ripartire dai formaggi a poche ore dall'accessazione ufficiale dello stato di emergenza, anzi ripartire da Formaggio in Villa che entra nel centro storico di Cittadella per suonare la sveglia al territorio e al Veneto. Come a dire, è primavera, è tempo di ripartire. Una ripartenza alla grande perché è una manifestazione a carattere nazionale, anzi internazionale perché c'è anche qualcuno che arriva dall'estero, basata principalmente sui formaggi, sulla qualità dei territori, sulla qualità dei prodotti veneti e italiani. È una ripartenza insomma in tutti i sensi. Primo di aprile ricominciamo con una grande manifestazione che avremmo dovuto fare il primo aprile del 2020, però Cittadella ci teneva, Cittadella ci tiene e ha volontà di crescere. Formaggio in Villa propone una selezione dei migliori formaggi d'Italia per quattro giorni con focus dedicati anche ad altre eccellenze del bel paese come olio, pane, vino e molto altro ancora. Un modo nuovo di intendere la produzione del comparto agricolo a braccetto con il turismo di qualità. Una manifestazione importantissima in un momento particolarmente delicato, quindi per noi questa è la manifestazione e la ripresa. È la decima edizione, in 12 anni abbiamo creduto come consorzio asiago fin dall'inizio in questa formula. Una Kermess che esce letteralmente dalla sede storica ed entra in città. Quest'anno siamo per la prima volta fuori dalla villa, in città simbolicamente, quindi ci apriamo, ci riapriamo al mondo e ci riapriamo simbolicamente anche presentando la nostra nuova campagna di comunicazione che è tutto basata sui valori dell'apertura e della positività, sottolineando appunto il sì che è contenuto all'interno del termine asiago. E così, tramite il gusto e la tradizione, Cittadella può mettere in mostra le proprie bellezze. Noi abbiamo delle mura stupende, inaugurato nel 2013 il camminamento completo del punto delle mura. È chiaro che però poi bisogna aggiungersi a tante cose, bisogna cercare la qualità. Queste manifestazioni fanno qualità, quindi creano turismo, creano cultura e quindi dovrebbero dare una mano anche ai commercianti del territorio. Commercio, eccellenze, il nostro territorio sono iniziative queste che valorizzano e alle quali è molto bello partecipare, quindi vi invito a farlo. Per quanto riguarda noi invece ci spostiamo di regione. Sapete che spesso andiamo a vedere il lavoro dei nostri colleghi di Telequattro a Trieste, che ovviamente seguono tutto quello che accade nel territorio, in Friuli Venezia Giulia. Una cosa carina è questo raduno di autostoriche a Trieste, in Piazza Unità, una ventata di ottimismo e soprattutto di ripresa, di ritorno alla normalità. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Entusiasmo e voglia di divertirsi, è il clima che si respira per la ritrovata gara storica Trieste-Opicina, iniziata con il raduno delle auto d'epoca in Piazza Unità. Organizzato dal club dei venti all'ora, l'evento si articola in due fasi. Delle prove di regolarità prima sul caso triestino e dopo spostandosi verso Grado su tutte le stradine dell'Isonzato. Pomeriggio ritorneranno su per chiudere questa sera a Repe. Invece domani avremo il trofeo Mario Marchi che è dedicato al nostro storico segretario, per cui le prove dell'ippodromo per i soci del credimento dell'ora faranno questa particolare classifica. In più avremo la Trieste-Opicina Young per i conducenti e i navigatori di età inferiore ai 30 anni e la Coppa ad Apace per le pilota. Il ritorno della manifestazione riporta gli appassionati dell'auto d'epoca a far girare i motori. Nonostante il tempo, il raduno ha visto la partecipazione sia di italiani che stranieri, con i cittadini e i turisti che si sono goduti la vista delle macchine storiche durante il raduno in Piazza Unità. Siamo pronti e siamo molto agguerriti. Che macchina è questa? Questa è una Lancia Flavia del 1962 con la modifica Nardi. È una specie di elaborazione sul carburatore fatta nell'epoca. È la terza che faccio io e sono proprio un neofita di quelli appena cominciato. Molti errori però si diverte lo stesso. La sua che macchina è? È una Fulvia Coupé 1300 del 1973. È emozionato per la partenza di quest'anno? Allora, un po' di emozione c'è sempre. È inevitabile ed è così. Già si pensa alle prove, le prove coronetrate, quelle che determinano la classifica. Le prime saranno a Sgonico, le prime sei e poi si andrà un po' più verso Aquileia, eccetera. La sua Giulietta, di che epoca è? È del 1963, una terza serie. In 2003 ha già partecipato a 4, 5, 6 edizioni di questa gara. Bellissimo questo rombo che riporta ai motori di tanti anni fa, molto più magari semplici, meno sofisticati, ma che davano tante soddisfazioni. Sentiamo adesso le voci dei vicentini perché il governo ha sempre intenzionato a ridurre l'impiego dei militari nell'operazione strade sicure. Sapete quella presenza dei militari dell'esercito nelle piazze delle nostre città per garantire più sicurezza. A quanto pare i numeri verranno ridotti. A Vicenza, in particolare a Campomarza, era un presidio che dava un po' di garanzie in più ai vicentini che infatti sono contrari a questa riduzione. Sentiamo. I militari vanno via, come commenta. Devono essere sostituiti, in maniera che rimanga come adesso è la situazione. Era un bel servizio, senza dubbio. Si sentiva più sicuri? Senza dubbio. Ma io non sono d'accordo, però ne so pochissimi. Mi spiace? Mi spiace, certo. Che cosa rappresentava questa jeep che faceva servizio? Beh, la sicurezza. Per lei, signora? È la stessa cosa, è la stessa cosa. Io che giro col cane era sicuramente una certa sicurezza, insomma, anche perché ce n'è bisogno. È un problema, un grosso problema, perché basta andare a vedere adesso là dietro e c'è una cozzaglia di persone che si drogano, che spacciano, eccetera. Quindi il presidio del territorio è la prima cosa fondamentale e evidentemente non ha questa considerazione. rappresentava sicuramente una sicurezza. Spesso, personalmente, ma anche altre persone che conosco, li fermavano e segnalavano loro quelle che erano le problematiche. Purtroppo vediamo pochi vigili transitare in zona. Sappiamo anche il perché, perché ce n'è mancanza. E quindi loro erano un po' quel punto di contatto tra la cittadinanza e le forze dell'ordine. Io continuo a chiamare la polizia ogni volta che vengo qua, perché è una situazione inaccettabile. I militari erano un tossello importante. Insomma, ti davano anche un po' di sicurezza, anche se poi non potevano fare niente, però insomma, almeno un minimo di tranquillità ti potevano dare. Adesso la situazione è veramente allo sbaraglio. In parte questa notizia negativa viene temperata dall'ottimo lavoro che il nuovo questore sta facendo su Vicenza, che ha portato effettivamente un notevole controllo superiore alle gestioni precedenti. Ecco, purtroppo tutto quello che si può dire è che più forze abbiamo a disposizione, meglio ne è per la quiete pubblica. Mi auguro che, finita il problema dell'Ucraina, venga ripristinato il servizio che aveva dato già degli ottimi risultati. Penso che dovrebbero rimanere qui e svolgere delle attività sociali. Cioè, in effetti sì, c'è tanto bisogno anche da noi. Se fosse dal mio punto di vista li terei ancora per molti anni, perché hanno portato un grande lavoro e una grande serenità tra gli abitanti. Ormai erano parti della città, salutavano i clienti, salutano la gente fuori. Diciamo che Rucco ha sempre dato manforte a Vicenza per mantenerli. Speriamo che tenga duro. Ancora qui insieme ci fermiamo un attimo, poi torniamo fino alle 13 per parlare del nostro Veneto. A tra poco. 12.48 insieme fino alle 13, poi ancora i nostri programmi. Abbiamo parlato della neve che è arrivata a Cortina, abbiamo parlato dell'aumento delle bollette, ma anche del pericolo di usura per le famiglie più fragili, che sicuramente si indebiteranno di più anche per l'aumento di alcuni prodotti, come la pasta, il pane, il caffè. E poi della discesa, non così netta, ma comunque progressiva e costante da 5 giorni, del numero di contagi, del numero di positivi. E qui si accompagna parallelamente un calo, anche qui non così evidente, ma che c'è di ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Adesso ci spostiamo a Bassano per parlare di un progetto di mobilità sostenibile, c'è un progetto che punta a liberare il centro dalle auto, dagli autobus, insomma garantire soprattutto la sicurezza dei giovani. Mobilità sostenibile, messa in sicurezza di ciclisti e pedoni, a cominciare dagli studenti che frequentano il centro studi di Bassano, uno dei punti neri della viabilità cittadina, tra intasamento di auto e bus, teatro giusto martedì scorso, di un incidente stradale che ha visto un giovane investito da una corriera proprio davanti al da ponte. Fortunatamente senza conseguenze gravi. Da qui però deve scattare una precisa riflessione, partendo proprio dai numeri. A Bassano nel 2019 sono stati investiti 85 pedoni, 11 persone sono morte sulle strade. Come poter risolvere questa situazione? Allora, FIA Bassano ha deciso di intraprendere un percorso di tre tappe, molto pratiche e molto immediate. La prima sarà una pedalata, invitando tutti i portatori di interesse. Facciamo una tappa in bicicletta, perché bisogna spostarsi in bicicletta e vedere, proprio capire le criticità che ci sono al centro studi tutti i giorni. Dopodiché faremo una tappa invece istituendo un tavolo tecnico. Porteremo delle proposte molto pratiche. Decisiva la terza tappa. Chiediamo all'amministrazione di fare un progetto di fattibilità per un terminal bus a nord, nel parcheggio Gerosec. La nostra aspettativa è che nei momenti di entrate e uscita delle scuole il centro studi sia completamente svuotato di auto e mezzi pubblici per dare la maggiore sicurezza possibile ai nostri ragazzi. Qualcosa di concreto da fare per i giovani, per aiutarli a vivere in un ambiente migliore, in una città, in un contesto che sia sicuramente più salubre. Per parlare della guerra in Ucraina ci possiamo collegare alla morte di un attivista veneto che era, avrete letto, andato a combattere con le milizie filorusse. È di Ongaro, morto nel Donbass a 46 anni, a Porto Gruaro. Lo stanno ricordando, l'hanno ricordato in queste ore. Ne hanno parlato tutti, però, come di una brava persona che sembrava distante un po' da questo concetto di guerra. Sentiamo. Un bambino d'oro, quell'epoca lì, perché aveva 13-14 anni. Poi nel futuro ha cambiato, è diventato grande, ha avuto i suoi ideali ed era un ragazzo un po' diverso dagli altri. Così il suo ex allenatore di calcio, oggi ristoratore a Giussago, ricorda il bambino e poi l'uomo. Di certo è di Ongaro, non era un tipo convenzionale, come non convenzionale è stata la sua morte nel Donbass, nelle truppe separatiste filorusse. Una storia la sua che ha fatto il giro d'Italia dividendo l'opinione pubblica e sollecitando il dibattito sui social. Tra Porto Gruaro e San Michele al Tagliamento, dove Ongaro era conosciuto, nessuno però si sente di giudicare. L'editorio, diciamo, è stato un po' scosso dall'evento perché era un ragazzo che tutti quanti lo conoscevamo. ha fatto la sua strada e quindi ci dispiace. Per giudicare bisogna conoscere e per conoscere allora poi si potrebbe dire quello che è. Cioè io non do né ragione né torto. Quello che a me interessa è quello che non si devono ammazzare donne e bambini. Papa Sergio e Ziorino ne restituiscono il ritratto di un ragazzo comunque impegnato, intento nelle sue letture e fermo nelle proprie idee. Antifascista senz'altro, diciamo, no? Perché noi abbiamo un... Da mio papà a io è sempre... Parte rossa, no? Ma quei colori non vuol dire niente, insomma, no? L'importante è avere gli ideali belli qua, leggeva. Per quello che lui andava in giro per il mondo e sapeva un po' di quello, un po' dell'altro, no? Un po' per conto suo, ma era intelligentissimo, questo sì. Lui leggeva sempre libri, leggeva, leggeva sempre, sì, sapeva un po' di tutto. Quando, per esempio, lui è stato un po' in giro per il mondo e non aveva difficoltà a imparare la lingua, era proprio veloce come il vento. Papà e zio, che ai nostri microfoni avevano chiesto un aiuto per riavere almeno le ceneri del 46enne, stasera intanto in chiesa Giussago lo si ricorderà con un rosario, domani con una messa in suffragio. Abbiamo detto poco fa che le elezioni amministrative porteranno molte città a scegliere il nuovo sindaco. Tra questo è Padova, dove si è candidato il figlio del noto virologo Andrea Crisanti. C'è un po' di curiosità, si candiderà nella lista di coalizione civica, sentiamo un po' cosa ci dice. Sarà stato forse l'effetto della data ormai stabilita per le elezioni, ma in questo primo sabato di aprile fioriscono le presentazioni di candidati a Padova. Tra questi abbiamo il piacere di incontrare un candidato, non candidato a sindaco intendo, ma messo in una lista che sostiene il sindaco Giordani, ovvero la lista di coalizione civica, molto giovane e con un cognome che molti di voi ricorderanno, ovvero Giulio Crisanti, figlio di Andrea. Buongiorno Giulio e benvenuto. Buongiorno, grazie mille. Senta Giulio, perché la scelta di candidarsi? Sì, innanzitutto in generale, in politica, per le prossime amministrative di Padova. Ok, diciamo, tutto questo parte dal mio percorso fino adesso, ovvero io ho fatto l'università a Cambridge, in Inghilterra, e adesso sono qui al dottorato del primo anno. E diciamo, passando da città universitaria a città universitaria, che diciamo Cambridge alla fine, demograficamente, è molto simile, una città piccola con una grande popolazione di studenti, mi sono reso conto che noi studenti abbiamo un impatto enorme sulla città, in generale, sia a Padova che a Cambridge, ma non abbiamo rappresentanza politica, cioè è praticamente inesistente, per dirti, a Padova siamo 60.000 su 200.000. E quindi, diciamo, abbiamo un impatto enorme, secondo me questo dovrebbe essere sentito, quindi per questo devo colmare un po' questo buco, diciamo. E quali sono le esigenze principali degli universitari residenti o comunque in trasferta a Padova per tutto l'anno universitario, accademico? Beh, diciamo, ce ne sono molte. La principale adesso, secondo me, è appunto l'alloggio, che io ho avuto fortuna, che ho trovato un posto, ma parlando in giro tra i miei amici e tra le persone, la situazione attualmente è assurda. Cioè, conosco un sacco di persone che devono andare un'ora e mezza avanti e indietro ogni giorno, che da fuori Padova... Ultima domanda, è vero che suo papà Andrea non sapeva di questa sua proposta di mettersi in una lista politica per le comunali di giugno? Cioè, sì e no. Diciamo che io ho conosciuto Chiara Gallani attraverso mio padre, che era amica sua, allora me l'ha presentato un giorno. Però poi è stata lei a contantare me indipendentemente e mi ha fatto lei la proposta. Io glielo avevo parlato un po' prima e ne avevamo discusso, però alla fine io sono io, lui è lui, l'ho scelta, l'ho fatta io e diciamo non era ancora processato, diciamo, il tutto. Ma non solo lui, mia madre mi ha chiamato sinceramente, un po' un imbarazzo, dal lato mio, che l'aveva visto sul giornale e non glielo avevo detto, pure mio padre e i miei amici, ma non perché non volevo. Sono alcune cose che a volte si possono anche fare di nascosto, insomma, dai genitori. Sì, vabbè, diciamo, di nascosto questo credo sarebbe stato difficile, ma come ribadisco alla fine, cioè, ormai ho 23 anni, ho la mia vita e mio padre, poi ovviamente gli dico le cose, ma non era ancora arrivato al... Diciamo, ci sono arrivati voi prima di me. Bene, camminerà con le sue gambe in politica. Allora Giulio Crisanti, che ringraziamo per aver partecipato a questa intervista, il quale auguriamo, ovviamente, come a tutti i candidati, in bocca al lupo. E vedremo come andrà adesso. Torniamo alla questione degli aumenti, perché abbiamo detto che cresce il pericolo di indebitamento delle famiglie venete e rischio usura pure. E' la CGA di Mestre che lancia questo allarme. Gli aumenti del costo dell'energia, del gas, del carburante, e delle semplici materie prime che finiscono sulle nostre tavole stanno portando ad una costante crescita del debito delle famiglie venete. L'analisi è quella dell'ufficio studi della CGA di Mestre. A fine 2021 il debito montava complessivamente a 50,7 miliardi di euro. L'importo medio per nucleo familiare era poco al di sotto dei 24.300 euro, con un incremento rispetto all'epoca pre-covid del 7,5%. Tra tutte le regioni d'Italia, solo in Trentino Alto Adige si è registrata una variazione percentuale maggiore di quella veneta. Le famiglie più in rosso sono quelle della provincia di Padova, seguite da quelle di Treviso e Venezia. I nuclei familiari meno indebitati in Veneto risiedono nel bellunese. Per la CGA si tratta di una situazione critica, ma non drammatica. Ci preoccupa di più diffondersi del rischio usura, che potrebbe colpire soprattutto artigiani e piccoli commercianti, che ad esempio il caro bollette lo stanno pagando due volte. La prima come utenti domestici, la seconda come imprenditori per produrre all'interno delle proprie attività e per riscaldare e illuminare negozi e botteghe. Un fenomeno, quello dell'usura, difficile da inquadrare con dati reali, visto che spesso, sottolinea la CGA, chi finisce nella rete di questi criminali spesso ha paura di denunciare i suoi aguzzini. E con la crisi economica, legata anche alla situazione geopolitica, le forze dell'ordine denunciano da tempo molti segnali di avvicinamento delle organizzazioni criminali al mondo dell'imprenditoria, soprattutto artigiani, commercianti e partite IVA. Lavoratori autonomi che inizialmente si indebitano per poche migliaia di euro, ma nel giro di qualche mese si trovano nell'impossibilità di restituire questi soldi perché nel frattempo gli interessi hanno raggiunto livelli spaventosi. Sono queste, secondo l'ufficio studi della CGA, le realtà più a rischio. Secondo l'Associazione degli Artigiani, lo Stato deve intervenire con massicce dosi di liquidità, ma anche incentivando il ricorso al Fondo per la prevenzione dell'usura. E siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Vi abbiamo fatto compagnia, adesso vi lasciamo ai vostri pranzi, naturalmente, domenicali. Vi ricordiamo però di rimanere con noi anche nel corso del pomeriggio, e poi questa sera prima i notiziari e poi il film alle 21.15, The Contract con Morgan Freeman, John Cusack e Jamie Anderson. Grazie per essere stati con noi, buona domenica a tutti, naturalmente. Rimanete su Rete Veneta, arrivederci. Rimanete su Rete Veneta, arrivederci.